Licenza sospesa per 20 giorni denuncia all'autorità giudiziaria e questo è il bilancio dell'operazione svolta dagli uomini del commissariato Repubblica Sicurezza di Sulmona per un esercizio di vendita preziosi sito in città al quale è stato notificato il provvedimento del questore dell'Aquila che dispone la sospensione della licenza. In particolare nel corso di un controllo al compraoro è stata accertata l'acquisizione di oggetti preziosi senza la preventiva riproduzione fotografica degli stessi come invece prescritto in serie di rilascio della licenza proprio al fine di evitare la possibile ricettazione di materiale compendio di furto o altri reati. Il titolare un cinquantenne dell'Aquila è stato denunciato all'autorità giudiziaria per la violazione delle normative al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la licenza di vendita di preziosi è stata sospesa per 20 giorni. Il provvedimento dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza è stato adottato a seguito di controlli mirati eseguiti nell'ambito delle verifiche periodiche effettuate presso gli esercizi soggetti a licenza di polizia dei poliziotti di Sulmona in stretta sinergia con la divisione polizia sociale e amministrativa della questura aquilana.